È stato un lungo e faticoso viaggio, ma alla fine, non senza qualche difficoltà lungo il cammino, l'ansio della famiglia Rizzaro ce l'ha fatta e può festeggiare finalmente il ritorno in Serie D. L'ultima partita, quella più difficile, vedeva i neroniani opposti alla V3 Maccarese, esattamente come poco più di un anno fa. Lì furono i bianconeri a spuntarla e a guadagnarsi l'accesso agli spareggi nazionali, ma quest'anno è tutta un'altra storia. Rizzaro, Galati, Catarinozzi, Mauro, Fusaroli, Busti, Bencivenga, Gennari, Regolanti, Giordani e De Gennaro, dirige l'orchestra Mario Guida. Questi, gli undici biancazzurri che difficilmente saranno dimenticati dal caloroso pubblico che ritrova i propri beniamini. Dall'altra parte, la V3 Maccarese, ormai senza obiettivi precisi, opta per un leggero turnover. Eppure sono gli ospiti a partire meglio con Citro che costringe Capitano Rizzaro a superarsi per deviare in corner. L'ansio è molto attivo con De Gennaro sulla destra che scalda i guantoni di D'Alessandro. La partita è tesa e la V3 dimostra comunque di voler onorarla, con un pizzico di nervosismo che sale anche sugli spalti. Tensione che si dissolve al venticinquesimo quando De Gennaro trova perfettamente Bencivenga in area di rigore. Lo stacco del set è forte e preciso ed Alessandro non può far altro che intervenire con la sfera che ha già avarcato la linea di porta. 1-0 Anzio. Regolanti inizia la sua personale sfida con il portiere avversario e va vicino al gol da calcio di punizione. Partita che si infiamma nel finale di tempo con l'ansio a recriminare per ben due sospetti calci di rigore con il fischietto di gara che lascia correre. Termina con il minimo vantaggio dei padroni di casa il primo tempo. Nella ripresa l'ansio alza i giri del motore e Bencivenga premia la corsa di Catarinozzi che conclude pericolosamente ed è murato sul primo palo. Il destino vuole che tutti i giocatori più importanti entrino nelle situazioni irrilevanti e Fuseroli serve un assist al bacio per il 22esimo centro dello straordinario campionato di Marco Giordani. Regolanti non trova pace senza il gol e ci va vicino nuovamente da punizione per poi sfiorarlo nuovamente qualche minuto più tardi provando a beffare il neo entrato Ombrogi sul suo palo. Non c'è due senza tre e questa volta il terzo è quello buono. I precedenti marcatori Bencivenga e Giordani dialogano e liberano il destro di Giuliano Regolanti. Per una prima firma del suo calibro è quasi troppo scontato segnare questa volta ed è 3 a 0 ansio. La vittoria è netta l'ansio prova a fare addirittura il quarto si scopre e arriva il calcio di rigore in favore della squadra di Manelli con Di Giovanni che segna il 3 a 1 e prova a dare un po' di brio in più al finale. Con l'ingresso in campo della bandiera Davide Papagna l'ansio può finalmente festeggiare finisce 3 a 1. È serie D per l'ansio quarta promozione nel massimo campionato dilettantistico per la famiglia Rizzaro e la storia è fatta un'altra pagina indelebile del nostro calcio dei dilettanti.